Ciao a tutti, sono Giulia e lavoro come assegnista, come postdoc nel laboratorio The Protein Factory 2.0 dell'Università degli Studi dell'Insubria, dove mi occupo di caratterizzazione biochimica, in generale di proteine che svolgono un ruolo fisiopatologico nel sistema nervoso centrale, in particolare di varianti patologiche di una proteina che è coinvolta nella sintesi della Serina. Mi sono laureata alla triennale, sempre all'Insubria in Biotecnologie Mediche e alla magistrale in Biotecnologie Molecolare e Industriali. Grazie a questa laurea ho potuto svolgere tre mesi in un laboratorio, presso il laboratorio della professoressa Annalisa Pastore al King's College di Londra, dove mi occupavo di Biologia Strutturale. Ho svolto poi il dottorato in Biotecnologie, un progetto sulla regolazione della diaminoacido ossidase umana. La scelta dell'Università degli Studi dell'Insubria, in particolare della magistrale, è stata una scelta vincente, in quanto mi ha permesso di poter toccare, di poter vivere il laboratorio, di poter coltivare la passione che serve per lo svolgimento della ricerca di questo lavoro e mi ha permesso anche di allargare i miei orizzonti e i miei contatti in buona parte d'Europa. Quindi credo che possa essere una scelta vincente per voi. Ciao a tutti!